bella legge e benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui su una mappa che si chiama I'm living qualcosa del genere ah I'm really living vabbè per una parola in secoli di I can live che bella musichetta no che bellissima ma che storia che bello bellissima la canzone quindi cosa devo fare qui mi sa che dovrò trovare un bottone allora qui sopra ecco warning emergenza dove dove good good sei sveglio non so cosa ahah non pensavo che era il tuo laboratorio ah questo qua è il suo laboratorio cioè io non lo so adesso solo perchè ho scoperto il suo laboratorio e mollami c'è qualcosa c'è una crafting table psst che è che mi chiama dove eh sei qui giusto ehm si non rispondo non rispondo non risponderò sei in uno stato di shock così hai assunto qualcosa il dottore ha messo qualcosa nella cella se puoi trovare le combo che ho scritto sul muro ah quello la probabilità cos'è hint level cerchi il nome della carta level 2 ah ok oh lo dimenticavo c'è una carta dove puoi scrivere dove ci puoi scrivere sopra il nome il nome nella tua stanza che numero che sistema numerico usavano i romani i numeri romani risposta 316 ah giusto 310 ok devo scrivere 316 316 316 ok bello che figata grazie uomo che qua c'è emergenza porta bloccata ah questo qua però lo posso rompere ok qua abbiamo delle cesoie ok industrial shares con le shares posso rompere questo queste sbarre ok ok attivo la leva cosa ha fatto ah ora ha riuscito il tuo obiettivo bene diversi di quest'altra volta ok cosa c'è qui non va niente ah attenzione c'è c'è un piccolo in testa ah guarda tutto più facile si si c'è la musica ok bene questa porta ok che sta succedendo ok alla galleria bene bene no cosa questo così ok è sbloccata la porta bene poi qua ora ho dimenticato di dirti una cosa c'è una shell ehm puoi scappare da una con una barca ok non vedo niente eh questo qua è la barca vedo c'è una scala piano piano arrivo ci sto arrivando con molta calma con molta calma no dai veramente qui è tutto buio e non si vede assolutamente un bel niente ho visto qualcosa c'è una cesta ah non è aperta ok e qui qua c'è qualcosa qua c'è un bottone ok perfetto qua andiamo su mmm cioè praticamente io sto navigando con la mia barca da pirata però non ho niente c'è cioè non ho bottone leve niente ho controllato anche con la night vision e non ho trovato assolutamente niente quindi quindi ho che la mappa è finita anche se non mi ha detto neanche che la mappa è finita in chat io spero che sia finita la mappa cioè non vorrei fare una brutta figura però non ho trovato nessun bottone beh se qualcuno l'ha trovata l'ha trovato o è veramente la fine questa non lo so ve lo può dire nei commenti quindi per questo video è tutto e bella